Il ministro che ti c'è la sensazione dopo aver ascoltato il discorso? Allora io sono di Forza Italia della prima ora, quindi sono dal 1994 e risentire Berlusconi, raccontare quella storia che è la mia stessa storia di appartenenza a questo grande partito, con questo grande leader, mi ha davvero commosso.